Buona serata, nuova edizione del TV Giornale di Telestense, edizione che cominceremo tra poco parlando di cronaca, in particolare di un maxi blitz della polizia contro la droga, ma parleremo anche della giornata contro l'omotransfobia. Proprio oggi, appunto, 17 maggio, c'è stata un'iniziativa che ha coinvolto diverse scuole di Ferrara alla Salestense. Ci occuperemo anche di sisma, in particolare con il ritorno dello storico lampadario di Sant'Agostino nel municipio, ma anche del Tecnopolo di Ferrara, che questa mattina ha parlato di sviluppo del territorio, ospitando peraltro due assessori regionali. E poi ancora vi parleremo del Consorzio di Bonifica e del Giro d'Italia, quindi di ciclismo, che arriva in Emilia-Romagna. Ma, come dicevo in apertura, apriamo subito parlando di arresti e un importante sequestro di droga. Sono le ultime operazioni messe a segno dalla polizia, che nell'ultimo periodo sta infierendo colpi pesanti alla fornitura di sostanze stupefacenti sul mercato cittadino. Vediamo. Dopo gli oltre dieci chili tra cocaina, marijuana e ashes, sequestrati mercoledì scorso ad un operaio attualmente in carcere, ancora un maxi sequestro di droghe pesanti da parte della squadra mobile di Ferrara, per oltre un milione di euro se la sostanza stupefacente fosse stata venduta al dettaglio, si alze il livello della lotta allo spaccio con obiettivo i rifornitori dello stupefacente in città. Questa volta gli investigatori hanno perquisito una casa in via Carlo Maier, un uomo si è lanciato dalla finestra del primo piano in un tentativo di sottrarsi alla polizia, ma gli agenti lo hanno bloccato, fermati altri due uomini, i quali avrebbero dato fuoco a un telefono cellulare per cancellare le tracce della loro attività. Droga trovata in cucina, in bagno e più precisamente nel cestello della lavatrice, dove c'era un'ingente quantità di ovuli di droga assortita, pronta per la rivendita ad altri intermediari o a pusher da strada. In tutto trovati quasi mille ovuli, di cui circa 150 di cocaina, oltre 700 di eroina, quasi 100 confezioni miste per un peso complessivo di oltre 12 chili. I tre uomini di origine nigeriana, in regola con il permesso di soggiorno e con qualche precedente con la giustizia, ma nulla di specifico in materia di droga, ora si trovano nella casa circondariale di Ferrara in attesa di giudizio. Rimaniamo sempre sulla cronaca, un arresto per droga anche a Comacchio, dove i carabinieri che hanno intensificato i controlli con l'inizio della stagione balneare hanno fermato un 24enne di origine moldava. Nell'auto e a casa, secondo i militari, aveva 40 grammi di cocaina, 30 di ascis, 11 circa di MDMA, più il materiale necessario per il confezionamento della sostanza stupefacente. Oggi pomeriggio c'è stata la convalida dell'arresto dopo la fragranza e combinata la pena sospesa di un anno e 10 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.000 euro. E oggi intanto, 17 maggio, è la giornata internazionale contro l'omotransfobia e alla Salestense si è tenuta un'iniziativa che ha coinvolto le scuole. Vediamo. Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omotransfobia. Per sensibilizzare il rispetto, Archigey Ferrara, agli occhiali d'oro, ha organizzato con diverse scuole della città il Festival delle Arti Diversiamo, tenutosi alla Salestense. Stiamo realizzando Diversiamo, il Festival delle Arti contro l'omotransfobia. Sono coinvolti 250 ragazzi, un istituto superiore di Ferrara, l'istituto Enaudi, due scuole medie, la Cosmetura e la Torquato Tasso. I ragazzi stanno presentando le opere di teatro, cinema, fotografie e fumetto che hanno realizzato nei laboratori durante tutto l'anno scolastico i laboratori del progetto Diversiamo, il progetto di promozione di una cultura della diversità e della non discriminazione promosso da Archigey Ferrara nelle scuole e con le scuole. L'iniziativa ha coinvolto particolarmente tutti gli studenti presenti. I ragazzi hanno partecipato molto attivamente, quando c'è da applaudire e inneggiare alle proprie opere lo fanno e poi però la cosa bella è che ascoltano in silenzio tutto ciò che i propri compagni e le proprie compagnie delle altre scuole hanno da dire, hanno da raccontare. È stato un laboratorio che gli ha insegnato qualcosa di più a livello di saperi, a livello anche di tecniche artistiche, ma soprattutto è stato un laboratorio che ha risvegliato in loro emozioni e queste emozioni sono qui, trasudano dalle loro pelli, dalle nostre pelli e anche dai nostri occhi, compresi i miei. Ogni tanto mi sono commossa perché è veramente molto molto emozionante quello a cui stiamo assistendo oggi in Sala Estense, 17 maggio del 2022 a Ferrara. Diversiamo a goduto del sostegno di diversi enti. Importante è anche il fatto che questo è stato un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna perché Arcigay Ferrara agli occhiali d'oro ha vinto un bando regionale sulle pari opportunità, ma il festival ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Ferrara. Un sicuramente gesto importante dal Comune di Ferrara che dimostra così che lo slogan Liberi di Essere che promuove sulle proprie, diciamo, nella giornata del 17 maggio, effettivamente è confermato da questa loro partecipazione. E adesso invece parliamo di sanità, situazione coronavirus, pochi nuovi casi, mentre boom di nuovi guariti e cala la pressione ospedaliera. Ma purtroppo però si registrano ancora due decessi e tra questi due si parla anche di una persona di soli 48 anni. Vediamo. Per quanto riguarda l'ondata pandemica da Covid, si registrano soli 79 nuovi positivi nel Ferrerese e ben 326 nuovi guariti. Cala la pressione ospedaliera nel Ferrerese, 48 le persone ricoverate nelle parti Covid di Kona, 42 al Delta e 6 a 100. Ma purtroppo si registrano due nuovi decessi, entrambi ferreresi, un uomo di 48 anni e una donna di 90 anni. L'aggiornamento in Emilia-Romagna registra più di 3100 nuovi guariti e oltre 2000 in nuovi casi, 12 purtroppo i decessi in Emilia-Romagna, calano i ricoveri anche a livello regionale. E come sapete manca poco all'anniversario dei 10 anni dal drammatico sisma del 20 maggio 2012. Ovviamente ne parleremo anche nelle prossime edizioni con diversi speciali, ma intanto c'è un gradito ritorno, chiamiamolo così, che arriva da Sant'Agostino. Vediamo. I lampadari del comune di Sant'Agostino, simbolo del sisma di 10 anni fa, rimossi dalla struttura municipale e poi demolita, sono tornati a casa. I preziosi oggetti donati da Italo Balbo vennero recuperati dai Vigili del Fuoco e portati nella reggia ducale di Sassuolo insieme ad altre opere salvate dal terremoto. Anni dopo vennero affidati al Consorzio Vetrai di Murano. Ora il ritorno nel comune, che nel frattempo si è fuso con Mirabello diventando Terre del Reno e che non è stato ricostruito sulle macerie del precedente, bensì all'interno dell'edificio razionalista che fino a 10 anni fa ospitava le scuole medie. Una volta terminati i lavori di rifacimento che hanno convertito la ex scuola a nuovo edificio municipale, i lampadari sono stati trasportati in paese e installati in quella che oggi è la sala consigliare del comune di Terre del Reno. Intanto a 10 anni dal sisma, il professor Riccardo Caputo dell'Università di Ferrara, membro della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, nel corso del convegno dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, in occasione del decennale del terremoto che ha colpito molto l'Emilia nel 2012, ha fatto il punto sul rischio sismico del nostro paese e sulle possibilità di intervento. Vediamo. Dove e quanto, ma non quando. Si potrebbero sintetizzare in questo modo le attuali possibilità di prevedere i terremoti. Ad oggi è impossibile prevedere quando esattamente si verificherà il prossimo terremoto in un determinato luogo, dice il professor Riccardo Caputo, geologo dell'Università di Ferrara, membro della Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi. Per organizzare l'evacuazione della popolazione da un luogo, la protezione civile dovrebbe saperlo almeno con un anticipo di qualche giorno, ma stime, a così breve durata, non sono ancora possibili, non per la scienza e le tecnologie odierne almeno. L'unica previsione possibile è a distanza di alcuni secoli, mentre le conoscenze scientifiche odierne hanno permesso di individuare e caratterizzare le principali sorgenti di movimenti tellurici presenti sul territorio nazionale, ovvero sia le grandi fratture della costa terrestre. Da qui la possibilità di mappare il territorio nazionale, definire le aree a maggiore pericolosità sismica e prevedere la massima magnitudo dei terremoti. In generale, in contesti geodinamici attivi, maggiore sono le dimensioni delle faglie e maggiore potrà essere l'energia rilasciata durante il terremoto, spiega il professore. Quello che si può fare, anzi si dovrebbe fare in un'ottica di prevenzione, continua il geologo, è l'attivazione di misure in grado di mitigare il rischio sismico, ovvero sia il grado di perdite attese in termini di vite umane, feriti, danni a proprietà di infrastrutture, danni diretti e indiretti all'economia. In sintesi, è necessario intervenire sulla riduzione della vulnerabilità del nostro edificato e sulla pianificazione dell'emergenza, operazioni che riescono meglio se prima si definisce al meglio appunto la pericolosità sismica, sia regionale che locale, migliorando quindi le nostre conoscenze sulla geologia del terreno. Il nostro territorio è un esempio, continua il professor Caputo, sebbene infatti in Emilia siano presenti faglie di dimensioni medio-piccole, il livello di rischio sismico relativamente elevato è dovuto soprattutto ad un grado di vulnerabilità non adeguato per molti edifici, di cui l'urgenza di una progettazione antisismica che può avere diversi livelli di sicurezza. Ad oggi, una progettazione che mira la sicurezza pressoché totale è riservata in Italia solo agli edifici strategici, quali ad esempio le caserme dei vigili del fuoco, le prefetture, i tribunali, che a seguito di eventuali eventi sismici devono rimanere agibili. E tra l'altro si parlerà anche di terremoti nella giornata proprio del 20 maggio all'Università di Ferrara, un appuntamento di cui vedremo maggiori dettagli nelle prossime edizioni e che sarà al centro della puntata di giovedì sera appunto di match del giovedì alle 21.30 dunque del 19 maggio. Adesso invece andiamo all'Università perché questa mattina gli assessori regionali Vincenzo Colla e Paola Salomoni hanno fatto visita al Tecnopolo in un incontro in cui si è parlato delle attività di ricerca che si sviluppano al suo interno. Vediamo. Il Tecnopolo di Ferrara e le sue sinergie con lo sviluppo del territorio. Si chiama così l'iniziativa tenutasi presso il Polo Scientifico Tecnologico di Unife dove la rettrice Laura Ramacciotti ha accolto gli assessori regionali Vincenzo Colla e Paola Salomoni, oltre all'assessore comunale Angela Travagli e a diversi stakeholder. Da tempo il nostro Ateneo è un Ateneo che ricade nella definizione propria di Ferrara città universitaria, quindi non è un Ateneo che si sente avulso dal suo contesto cittadino e territoriale, anzi tutt'altro vuole dare un contributo significativo a quello che è lo sviluppo del contesto socio-economico del territorio in cui insiste. Abbiamo investito tante risorse materiali e immateriali in questi dieci anni, forse anche più, a dire la verità, perché la legge regionale è del 2002, quindi ormai arriviamo alla seconda decade di attività legate alla ricerca industriale e alla ricerca applicata su tematiche di punta del nostro Ateneo. Abbiamo iniziato questo percorso quando appunto la regione approvò la legge sulla ricerca applicata industriale e trasferimento tecnologico con forte convinzione e determinazione. I gruppi di ricerca hanno saputo continuare ad investire nelle punte diciamo più eccellenti della loro attività scientifica a collaborare anche internamente all'Ateneo, quindi c'è una ricerca interdisciplinare, trasversale, che valorizza sempre di più le competenze dei singoli e che risulta attrattiva anche per il contesto imprenditoriale, non solo locale chiaramente, ma anche al di fuori della nostra regione e del nostro territorio. Il valore del tecnopolo e le attività di ricerca che si sviluppano al suo interno a favore delle imprese è stato al centro degli interventi. Sono il punto di tecnopoli in cui la ricerca cala direttamente sul territorio, nelle imprese, nell'attività e nella vita dei cittadini alla fine, perché quello che conta è che della ricerca ci sia un impatto. I tecnopoli sono il punto di impatto, quindi per quanto, insomma, per come vedo io la ricerca, sono un punto importantissimo. Noi stiamo arrivando, arriva adesso il POR, quindi il programma dei fondi europei, andrà integrato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su cui devo dire Ferrara è stata abbastanza protagonista, quindi si tratterà di lavorare a Ferrara, come faremo poi nel resto della regione, perché ci sia complementarietà e perché questi insiemi di opportunità che arrivano tutte nello stesso momento davvero rappresentano un cambiamento per il territorio. Innanzitutto non può esserci sviluppo economico senza ricerca, senza innovazione, tecnologia e la scienza, quindi il tecnopolo è fondamentale per la nostra città, è un'eccellenza, anche ho potuto fare la visita questa mattina, è un'eccellenza ed è fondamentale unire la ricerca, l'innovazione rispetto a poi l'industria e quindi l'attività economica, l'attività produttiva. Ecco, l'amministrazione da sempre subito ha stretto una collaborazione con l'università perché crede ovviamente in questo progetto e ha trasferito la proprietà a titolo gratuito del TecnoEb, che è dal Polo, e è concesso anche aree affinché si possono costruire manufatti per ovviamente per la ricerca, quindi sono aree a titolo gratuito che sono aree verdi attorno ovviamente al TecnoPolo. Ed è stata una mattinata speciale oggi a Kona dove il Consorzio di Bonifica e Pianura di Ferrara ha inaugurato il nuovo archivio e la biblioteca in cui è raccolta una parte della storia ferrarese e del suo territorio. Alle 11 all'impianto Idrovoro Sant'Antonino, taglio del nastro alla presenza delle autorità. I saluti sono stati portati dal Vice Presidente del Consorzio Luca Natali e il Direttore Amministrativo Paola Cavicchi ha spiegato i lavori che hanno portato a questo risultato. Oltre all'importanza dell'archiviazione di documenti centenari, i lavori hanno regalato a Ferrara e alla sua provincia una nuova biblioteca che entra così nel circuito. Ma sentiamo dunque come è nato questo progetto. Nata nel 2016 l'idea di realizzare qui presso l'impianto di Sant'Antonino a Kona un nuovo archivio storico, una nuova biblioteca del Consorzio. Perché qua? Perché si erano realizzate la possibilità di avere uno spazio disponibile e gli amministratori dal 2016 hanno avuto questa idea, sono stati vari progetti, autorizzazioni, realizzazioni, è stata fatta un'importante ristrutturazione e soprattutto sono stati acquistati questi armadi compattabili che vedete alle mie spalle che consentono di mantenere e custodire in maniera ordinata e soprattutto protetta tutto il patrimonio archivistico del Consorzio. Avevamo una molla esterminata di libri molto spesso chiusa nei cartoni ma non avevamo uno spazio adatto e qui ristrutturando appunto questa, un tempo qui c'era un magazzino, c'era un'officina, liberati questi spazi abbiamo potuto realizzare anche la biblioteca che contiene più di 4.000 volumi, abbiamo aderito il polo bibliotecario di Ferrara e partirà a breve, considerate che il trasloco l'abbiamo finito dieci giorni fa, quindi siamo appena arrivati e inizierà la catalogazione e quindi sarà una biblioteca disponibile e aperta al pubblico. Si è creata la necessità di creare un polo unico degli archivi anche perché erano ancora nelle vecchie sedi e naturalmente erano poco fuibili e assolutamente dovevamo cercare una soluzione per quanto riguarda anche la possibilità del mantenimento futuro. È chiaro che oltre alla documentazione di grande rilievo, di grande importanza, il Consorzio di Bonifica nascendo praticamente nella fine del Cinquecento si riporta tutta una serie di cartografie molto importanti, importantissime direi, molto belle anche visivamente e che sostanzialmente colgono una traccia di quella che è stata la storia della provincia di Ferrara. Noi qui quindi oggi raccogliamo sia la documentazione sia anche l'archivio che si impreziosisce del Catasto Carafa, infatti anche Sant'Antonino verrà diciamo titolato al Cardinale Francesco Carafa, che fu il precursore per cui lui fece il primo Catasto, chiamato il cosiddetto appunto Catasto Carafa, nel 1779 su disposizione di Papa Pio VI. È una cosa certamente che arricchisce il Consorzio, arricchisce chiaramente anche quello che è la parte storica. Quindi qui a Cona sostanzialmente abbiamo una sorta di spazio didattico nel quale si può parlare e vedere sia l'attività idraulica, abbiamo un impianto, anzi ne abbiamo due, quello principale che è degli anni 20 e quello secondario che è stato inaugurato nel 2013 a supporto appunto del polo ospedaliero e quindi uno spazio didattico che sia aperto che diciamo ricco di documenti storici dove uno si può veramente ripercorrere tutta la storia e l'attività svolta dai vari consorzi di bonifica negli ultimi secoli. E adesso una bella notizia di sport che riguarda il ciclismo perché arriva in regione il Giro d'Italia. Vediamo. Dopo essere stata al centro del Giro d'Italia degli ultimi anni, quest'anno la Corsa Rosa attraversa solamente l'Emilia-Romagna con due tappe dedicate molto probabilmente ai velocisti, essendo pianeggianti ma dal profondo significato sociale. Infatti domani 18 maggio la Sant'Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia percorrerà gran parte dei comuni interessati dal terremoto esattamente dieci anni fa, mentre giovenire a partenza sarà a Parma per chiudersi a Genova. Durante la giornata di domani la carovana passerà per Bologna e per la città metropolitana, toccando i comuni di Toscanella di Dot, Castel San Pietro Terme, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro, Bologna, San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. Per consentire il passaggio dei ciclisti sono state predisposte modifiche al traffico e alla viabilità a partire dalle 12 fino alle 16 e comunque fino al termine del Giro. Previste anche deviazioni e soppressione delle linee bus sul raccordo tra la stazione Borgo Panigale e Tangenziale di Bologna, chiusura dello svincolo di San Giovanni in Persiceto in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 a Triunvirato e lo svincolo 2 Nuova-Bazzanese. Le vie all'interno della città di Bologna interessate dal passaggio e quindi chiuse per un certo periodo prima del passaggio della corsa saranno dalla Rotonda Decorate al Valor Militare a via Giuseppe Dozza, quindi via Emilia Levante, via Po, Rotonda Italiani, caduti in Missione di Pace, via Degli Orti, via Morri, via Le Gozzadini, via Le Panzacchi, via Le Aldini, via Le Peppoli, quindi via Le Vicini. Dai Gali si passa via Sabotino, via Tolmino, via Gandhi, Rotonda Romagnoli, via Le Togliatti, Rotonda Battaglia di Casteldebole, Rotonda Benedetto Croce, via Le De Gasperi, Rotonda Taglioni fino a via Persicetana. E siamo in chiusura, prima di terminare i programmi della serata su Telestense, alle 20.25 torna l'appuntamento con Diamanti in Pinacoteca, alle 22 come ogni martedì il processo al Gran Premio con Veronique Blasi e alle 23.40 i ragazzi del liceo Carducci in Prima della Prima in TV. Questi gli appuntamenti della serata, ma vi ricordo come sempre anche Telestense.it e i nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram per queste e altre notizie. Grazie dunque per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.